Fulvio Collovati, un parere sul calciomercato, chi è la regina del calciomercato? Allora direi che la regina è la Milan, mi è piaciuto molto il mercato del Milan, comprati giocatori probabilmente di secondo piano, tanti anche a parametro zero, ma sono giocatori direi che hanno cambiato il volto di questa squadra, da Alex in difesa a Menez, Torres in avanti, lo stesso Biabiani, l'ultimo colpo di mercato, complimenti ai Gagliani, veramente una squadra in stile Inzaghi. Poi devo dire che non mi è piaciuto assolutamente il mercato della Juve, i tifosi giuventini si aspettavano il top player, non è arrivato, giocatori come Romulo, come Pereira, lo stesso Evra, che però non ha giocato nella prima partita di campionato, sono ottimi giocatori ma non cambiano il volto della Juve dell'anno scorso. L'Inter, l'Inter sì, si è rinforzata in difesa con l'acquisto di Vidic, però poca qualità secondo me a centrocampo, lo si è visto già nella partita contro Torino, in avanti buono l'acquisto di Osvaldo, però io preferisco sempre che giochi Palazzo, per le altre molto deludente, De Laurenti si aveva promesso Mario e Monti, addirittura si è parlato di Savialonso, Mascherano, tutti i nomi fatti a Vanvera, in realtà è arrivato Diego Lopez, è arrivato De Guzman che ha fatto gol, però sono giocatori che non sono fenomeni, giocatori che rinforzano ma non cambiano il volto del Napoli. La Roma, infine, ha fatto un ottimo mercato, direi appunto Milan e Roma sono le due regine di questo mercato, la Fiorentina purtroppo ha la sfortuna di Pepito Rossi che si è fatto male ancora una volta, però può benissimo con il mercato che ha fatto lottare per il quarto o quinto posto.